Ben trovati per questa puntata di Gaia, il libro della Terra, stiamo davanti all'inceneritore di Cremona e vogliamo capire quale sarà il suo destino dopo anni di promesse non mantenute, in particolare fa discutere l'ipotesi, sembra verosimile che A2A voglia mantenerlo in vita almeno per altri 12 anni, ma procediamo per gradi, chiediamo a Marco Pezzoni, coordinatore di Stati Generali, Clima, Ambiente e Salute, la storia di questo inceneritore e tutte le varie promesse di chiuderlo che non sono state mantenute. Questo inceneritore come si può vedere ha due linee, sono entrati in funzione nel 1997 la prima, nel 2001 la seconda, ma pensiamo un po', già nel 2014 la Giunta regionale della Lombardia, in uno studio sul numero eccessivo di inceneritori presenti in Lombardia, aveva individuato in quattro inceneritori quelli obsoleti, quelli inefficienti nel rapporto dell'energia prodotta, del teleriscaldamento, del fatto che fossero comunque già impianti vecchi e molto inquinanti e aveva individuato in questi quattro inceneritori anche quello San Rocco di Cremona. Dunque, già nel 2014 la Giunta di centrodestra aveva individuato, ed erano d'accordo, sembravano anche tutte le forze politiche, che andava chiuso. Proprio per questo, in forza di questo, anche il centrosinistra a Cremona, nella candidatura del sindaco Galimberti, aveva adottato l'idea di chiuderlo entro tre anni. Come hai detto, promesse mai mantenute, perché nel frattempo la proprietà è cambiata e quindi il potere negoziale che aveva il Comune di Cremona, che nella prima fase era praticamente il maggior titolare di proprietà di questo inceneritore, poi l'ha venduto in gran parte a LGH, poi da LGH si è passati alla compravendita totale da parte di A2A e a questo punto il Comune di Cremona via via ha perso la quota di azioni sufficienti per poter incidere. Attualmente il Comune di Cremona ha delle quote? Ha una quota minima in A2A, ma una quota che ovviamente è inessenziale, però poteva avere ancora un potere negoziale. Quando ha negoziato il Comune di Cremona il pacchetto 20-30 con A2A? Nel momento in cui tu decidi con la maggiore multiutility che c'è a livello nazionale, almeno nel nord Italia, la seconda per grandezza è Acea in Lazio. Quando tu negozi centinaia di milioni di euro di investimenti che a giudizio di A2A sono utili per i profitti, perché A2A è oltretutto sul mercato finanziario internazionale, oltre che nazionale, ha degli azionisti. Ebbene a questo punto perché non negozi anche la chiusura dell'inceneritore? No, tra l'altro le associazioni ambientaliste l'avevano chiesto. Guardate che l'unico atto importante, visto che la proprietà è totalmente di A2A, è che il Consiglio di amministrazione di A2A, nelle proprie politiche industriali, decida la chiusura dell'inceneritore. Fra tre anni, fra quattro anni, ma lo scrive, lo decide nero su bianco. Sapete qual è stata la risposta dell'amministratore delegato di allora di A2A? Poi adesso Mazzoncini dice le stesse cose. No, non lo possiamo fare perché noi siamo azionisti. Noi abbiamo bisogno di avere un consenso degli azionisti e quindi per noi gli interessi dei cittadini e quello che sono le esigenze della comunità locale vengono in un secondo tempo, anzi non arrivano mai. Ricordiamo che nel 2023 A2A ha raggiunto un utile netto aumentato del 64% rispetto all'anno precedente, di totale quindi 659 milioni di euro di utile netto. E' chiaro che le multiutility, anche se sono partecipate al 50% dal comune di Brescia e dal comune di Milano, poi fanno i loro interessi. Ma il problema sono gli enti locali, sono i comuni che sono eletti dai cittadini, che devono fare gli interessi dei cittadini. Ricordo, perché è bene ricordarlo anche ad A2A, che la zona di Cremona e la città di Cremona risulta la più inquinata per polveri ultrasottili di quasi tutta l'Unione Europea. E la prima in Italia è la peggio messa. Allora, con un inquinamento di questo tipo chiediamo a medici democratici, chiediamo a ISDE medici per l'ambiente, ma gli inceneritori, anche quelli un po' più moderni, non questo che è peggio, ma fanno bene alla salute? La risposta è no, perché inquinano, perché ogni cosa che viene bruciata, anche se tu hai dei filtri, produce diossina, produce furani, produce polveri ultrasottili, le famose PM2,5 che entrano direttamente nei polmoni e di cui Cremona è la capitale in Italia e la terza o la quarta in Europa. E qui vengono bruciate, se non sbaglio, 70.000 tonnellate all'anno di rifiuti. Esattamente. Ci sono alternative? Sì che ci sono alternative. Per esempio, basta vedere a Treviso e le decine e decine di comuni attorno a Treviso, fanno senza l'inceneritore da sempre. Perché? Perché fanno una raccolta differenziata spinta. Andate a vederlo, diciamo, i telespettatori, per esempio Contarina, che è questa società per azioni, però che è partecipata dai comuni e da Treviso come comune. Bene, loro non hanno l'inceneritore, hanno oltre il 90% di raccolta differenziata e pensate un po', l'indifferenziato per abitante è stato ridotto a 41 kg all'anno per abitante. Allora è ovvio che ci sono alternative già esistenti, virtuose, che non inquinano, che tra l'altro creano più lavoro. Perché? Perché la Contarina non ha l'inceneritore, ma ha quelle piattaforme industriali che raccolgono e differenziano i rifiuti e li riusano e li riutilizzano. Si chiama fabbrica dei materiali e l'industria italiana è un'industria dipendente dall'importazione di materie prime e di materie prime e seconde. I rifiuti sono in realtà la risorsa principale, se non li si brucia, la risorsa principale per fare piattaforme industriali avanzate che recuperano fino a oltre il 90% quello che noi produciamo. Ovviamente la cosa migliore è anche ridurre i rifiuti, ma però ai cittadini chiedi di ridurre i rifiuti, però dopo è chiaro che tu, comune, ente locale e azienda, prima municipalizzata e oggi multiutility, devi essere altrettanto credibile e virtuosa. Una delle motivazioni per cui si dice che non si può chiudere, mi spiegava Marco Pezzoni, sarebbe quella che dà un contributo, appunto l'inceneritore dà un contributo al teleriscaldamento di un 30%. Anche questa è una frottola, è vero che l'inceneritore ha anche una quota di produzione di energia elettrica e una quota di produzione di energia termica, acqua calda che va, ma c'è già presso il nostro inceneritore un impianto che può entrare indipendente dall'incenerimento dei rifiuti, in funzione quando c'è situazione di emergenza, ma con un investimento molto basso, dai 4 ai 5 a 6 milioni di euro si può fare esattamente acqua calda chiudendo l'inceneritore e semplicemente appunto creando un impianto che fa acqua calda e lo immette nel inceneritore. Con 4, 5, 6 milioni si chiude anche la dipendenza dall'inceneritore, che è il pretesto per cui molte multiutility a 2A in testa hanno chiamato gli inceneritori, unico caso è l'Italia rispetto all'Europa, termovalorizzatori, perché collegandosi al teleriscaldamento la stessa cosa può avvenire a Piacenza, si dice beh non possiamo chiudere perché siamo indispensabili, non è vero, ci sono sempre alternative e con pochi investimenti ci si può liberare dalla dipendenza del bruciare i rifiuti, perché quando si brucia qualsiasi cosa si produce diossina, si producono furani, si producono inquinamento che vanno direttamente ad aumentare la fragilità della salute dei nostri cittadini che non a caso vedono aumentare le patologie proprio dovute all'inquinamento dell'aria. Ora vorrei capire alcuni dati che cosa brucia questo inceneritore che abbiamo a Cremona insieme a Gigi Rizzi dal Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, sappiamo che si bruciano circa 70.000 tonnellate di rifiuti all'anno e il 40% arriva da fuori provincia, quindi non sono tutti i rifiuti nostri, Legambiente ha mai chiesto delucidazioni su che cosa viene bruciato, le varie percentuali se effettivamente la raccolta differenziata viene poi correttamente smaltita. Queste richieste le abbiamo sempre fatte, abbiamo sempre richiesto prima alle varie aziende che hanno preceduto A2A questi dati, ma i dati non ci sono mai stati dati, questa è la cosa essenziale, noi partivamo da un ragionamento di questo tipo, quando è stato costruito l'inceneritore, il Circolo di Legambiente era per fare l'inceneritore ma era contrario alla localizzazione qua, per noi la localizzazione era errata, su questa cosa qua noi avevamo sottolineato il nostro aspetto, poi nel tempo l'evoluzione della ricerca, della scientifica eccetera ci spingeva a dire che questo inceneritore che è ormai vecchio, si poteva fare un'alternativa facendo una raccolta differenziata spinta e quindi quando è arrivato come sindaco Gallimberti c'era questa idea di chiudere l'inceneritore, ci è parso un'idea veramente ottima perché voleva dire chiudere una pagina e aprirne una completamente nuova per dare aria a questa città perché anche un po' di anni fa Cremona era messa sempre male dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico. È possibile che venga incenerita della plastica anziché essere correttamente poi differenziata, ossia noi cittadini la stiamo differenziando ma che poi per raggiungere le temperature elevate di cui ha bisogno l'inceneritore venga effettivamente buttata della plastica. Il sospetto è molte volte forte da questo punto di vista, i dati naturalmente non ci sono stati dati ma l'indicazione che venga usata la plastica per essere bruciata e quindi per essere incenerita o messa nel teleriscaldamento, il risultato è un'indicazione che ci pare molto possibile da questo punto di vista. Le prospettive dal punto di vista legale quali sono? A2A ha un limite di utilizzo fino al 2029 giusto? Sì, il problema è che la battaglia, non abbiamo effettivamente grandi strumenti a disposizione perché A2A è diventato una delle multi utility più importanti d'Italia, credo la prima e sta giocando questa partita in maniera quasi da padrone di casa, l'intervento che ha fatto l'altro giorno l'amministratore delegato di A2A Mazzoncini aveva un po' di indicazione di carattere un po' padronale, le scelte le fanno loro perché loro dicono questa scelta è dal punto di vista ambientale perfetto, infatti è uscita questa dichiarazione che tutti quelli che sono contrari agli impianti hanno una posizione in INVI, ma secondo me lui non si è letto neanche la documentazione, probabilmente non è mai neanche venuto da queste parti perché venire qua e confrontarsi con i cittadini e dare le corrette informazioni mi pare che sia un elemento fondamentale della democrazia, perché sulla questione dell'informazione dei cittadini possiamo dire che qui abbiamo dei deficit pesanti, colpa di A2A ma colpa anche e soprattutto dell'amministrazione comunale che non ha gestito correttamente questo lavoro. Adesso secondo lei ci sono possibilità di intervenire? Per esempio i candidati sindaci si esprimono nel merito della questione, ma una volta che saranno alla guida della città potranno prendere qualche decisione, ormai siccome la proprietà è di A2A sostanzialmente che cosa può fare l'amministrazione comunale? C'è il rischio che tutto il tempo che abbiamo passato in precedenza pesi in maniera negativa su questa vicenda, questo è una cosa fondamentale. Io credo che al di là delle dichiarazioni per l'esperienza che abbiamo noi bisogna poi vedere i fatti. Abbiamo esempi precedenti di sindaci che avevano detto chiudiamo l'inceneritore e poi non lo hanno chiuso, quindi siamo in una fase elettorale e le promesse si fanno tranquillamente. È chiaro che però il vero problema è capire che ruolo vuole avere Cremona rispetto ad A2A, perché faccio indicazioni di due dati. Il Comune di Milano prende più o meno da A2A ogni anno circa 140 milioni di Euro che vanno nel suo bilancio, Brescia sono 70 milioni di Euro, Cremona credo che sia inferiore a un milione di Euro. Allora, al di là di questo, con meno di un milione di Euro, però si possono fare sulle questioni ambientali tante cose. A me per esempio piacerebbe capire questi soldi che arrivano, come vengono investiti e se vengono investiti su temi di carattere ambientale per il miglioramento del territorio e della salute dei cittadini. È poi chiaro che ci vuole la capacità politica di porsi, dal punto di vista politico nei confronti di A2A, rivendicando una serie di dati, perché la questione della salute è fondamentale e quindi bisogna difendere i cittadini e non consentire che le aziende non tengono conto di questo dato fondamentale. Ora voglio chiedere a Michel Marchi, sindaco di Gerry De Caprioli, se le preoccupazioni è che l'inceneritore venga mantenuto in vita almeno altri 12 anni sono fondate, quale potrà essere il destino di questo inceneritore? Io credo che innanzitutto sia necessario fare una valutazione che travalichi la politica ma raggiunga il livello aziendale. Nel senso, noi facciamo l'esempio come se stessimo gestendo la casa nostra o un comune. Ci permetteremo di cambiare la caldaia di casa spendendo X Euro, ipotizzando poi di vendere la casa o addirittura di doverla abbandonare e ripristinare i luoghi così come erano 30 anni fa, come è previsto dalla normativa? Ci permetteremo di investire in una ristrutturazione edilizia se decidessimo poi di affittare la casa e andare a stare al mare? Cambieremmo tutti i terminali del nostro comune se poi il comune dopo due anni andasse in fusione e non esistesse più? Queste sono le domande aziendali. Le domande aziendali ci dicono che in un procedimento normale di gestione aziendale come A2A sicuramente è in grado di fare più di noi, questo non è concepibile. Quindi sicuramente gli investimenti fatti, se voi adesso guardate l'inceneritore e vedete quelle due cupole argentate che sono ubicate proprio sopra il forno, sono le due nuove caldaie la cui ultima è stata realizzata determinata l'anno scorso. Quelle due caldaie sono costate tanti milioni di euro. Voi mi dovete spiegare com'è possibile che con un orizzonte temporale di 5 anni una ditta oggi investa milioni di euro in un revamping, perché così si chiama anche se ci hanno più volte costretto a dire che mai è stato fatto un revamping. Le carte di A2A parlano di tre revamping nel corso della vita di questo impianto e parla di un quarto revamping che è in corso. Quindi non possiamo farci prendere in giro da quello che ci viene raccontato dalla politica, ma se stiamo sul livello aziendale noi non abbiamo dubbi nel dire che l'idea dell'azienda è di proseguire questo progetto industriale sempre sulle spalle dei residenti di Via Bosco, di Gialle dei Caprioli e della zona sud della città. Quindi possiamo aspettarci che prosegua a 12 anni ma anche oltre. Io sono abbastanza convinto che se potessi mettere per iscritto oggi e farlo firmare da un attaio che tra due o tre anni verrà depositata la richiesta di proroga dell'autorizzazione ambientale, questo avverrà. Grazie allora Michelle, per questa puntata è tutto, vi aspettiamo alla prossima puntata di Gaia. Grazie a tutti.